A Baselice rinnoviamo l'impegno per l'ambiente e per la nostra comunità. Cambiano i giorni e le frequenze di raccolta dei diversi rifiuti, per il rispetto dell'ambiente e per il contenimento dei costi. Grazie alle novità del servizio di igiene urbana, a cura della nuova azienda Lavorne SRL, cambia il calendario dei giorni di raccolta dei diversi rifiuti e cambia il modo di raccoglierli. Da oggi ogni nucleo familiare avrà a disposizione un kit di secchielli in plastica rigida per il deposito dei materiali, tranne per la plastica e i metalli che da oggi verranno gettati insieme in un semplice sacchetto di plastica. Le attrezzature vanno poi esposte davanti alla propria abitazione o al proprio esercizio commerciale entro le ore 7 dei giorni indicati all'interno dei calendari in consegna presso ogni utenza. Chi possiede un orto, un giardino o un altro spazio idoneo può richiedere gratuitamente un compostel per l'autocompostaggio, così da reintegrare la sostanza organica nel suolo aumentandone la fertilità mediante l'uso di compost, derivato dal riciclo dei rifiuti organici. E' attivo un nuovo servizio di raccolta di pannolini e pannoloni, con ritiro a domicilio su richiesta al numero verde. Oh, ma sai quanto ci costano i cristiani all'ambiente e portiamo un nez all'imbiante? Impegnati per l'ambiente e per la nostra comunità, fai anche tu la tua parte! Fai anche tu la tua parte! Fai anche tu la tua parte!